Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, pian piano vanno avanti i giorni, pian piano iniziamo a vivere a pieno la season numero 8. Cominciano lentamente nei vari forum, su Reddit, anche su YouTube, le prime teorie sul vulcano e su quello che potrebbe realmente modificare la mappa per questa season e per la season successiva. Nel video di oggi ragazzi voglio parlarvi di una roba incredibile, probabilmente potrebbe esserci il ritorno dell'X4. Vedremo anche le sfide della settimana numero 3. In anteprima, vi ricordo, stellina segreta per la prossima settimana, parleremo ragazzi anche di cause legali, che sempre Epic Games è incastrata in ste cose premi vinti e se riuscirò anche un po' di leaks super super interessanti. Voglio però ringraziarvi tantissimo per utilizzare il mio codice creator XIUDERONE. Controllate se l'avete inserito perché ogni tot giorni viene automaticamente eliminato. Grazie a tutti quelli che si iscrivono al canale e soprattutto non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ragazzi la domandina ragazzi ve la devo fare. Questa è una bella domanda raga. Mi raccomando i vostri commenti proprio qui sotto e la domanda di oggi. Ma qual è stata la prima skin che hai shoppato? Ma prima in assoluto. Io ragazzi il credo 15 febbraio del 2018 ho shoppato per la prima volta il Love Ranger. Feci il set completo tranne il deltaplano Love Ranger e Piccone. Vinticinque euro spesi così di prepotenza ma mi piace tantissimo. E tuttora è la mia skin preferita. Veramente veramente meravigliosa. Qual è stata la tua prima skin? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Ma quindi ragazzi perché non si sposta? Non si sposta? No che cosa sta succedendo? Ma che cosa sta? Ma vabbè. Ciancio alle bande. E bando alle ciancio ragazzi. Parliamo subito delle due skin. Succedono le cose. Non so cosa succede. Parliamo subito delle due skin ragazzi che sono uscite ieri nello shop. Due skin molto interessanti. Falco Solare e Mezu Maral. Non ricordo bene il nome del tizio. Comunque entrambe skin che vanno a riprendere un pochettino la cultura azzeca. Maia. Quelle cose lì tutte un po' strane ragazzi. Ovviamente entrambe le skin si collocano nella nuova city. Quella che c'è in poche parole in alto a destra della mappa. Ma c'è una curiosità. L'avrete notato un po' tutti. È un po' saltato all'occhio di alcune persone. Il piccone Mezmer si chiamava lui. Il piccone Asha Azzeca. Nessuno si aspettasse che costasse solo 800 V-Bucks. È molto molto bello per costare così poco. Ed infatti ragazzi. Se per caso oggi fossero ancora nello shop le skin. Io vi invito. Se dovesse piacervi. A prendere il piccone Asha Azzeca. Perché ragazzi? Perché arriva un comunicato da parte di Epic Games. Ufficiale su Reddit. Rispondono a un utente. Che ha fatto proprio la stessa domanda. Che la stessa affermazione. Che vi ho fatto io. Nella prossima patch. La 8.1. Il piccone diventerà raro. Quindi costerà di più. Di quanto è costato. Oggi. Mi raccomando ragazzi. Non dimenticate che. Diventando raro. Appunto. Non sarà più possibile. Prenderlo per soli 800 V-Bucks. Approfittatone perché è davvero molto molto carino. Ma andiamo avanti ragazzi. E parliamo di uno degli argomenti più spinosi. Di questo video. Sto parlando ovviamente. Dell'X4. Lo Stormwing. L'avete già visto. Lo conosciamo. È punta di diamante. Tra virgolette. Per l'inizio della season. Numero 7. Poi tramutato. Un pochettino. In fastidio. Perché la gente è diventata veramente bravi. Ad usarlo. E quindi diventava un devasto. X4 che è stato nerfato. X4 che hanno cercato. Di modificare anche gli spawn. Insomma. X4 che sembra però. Tornare. In un futuro prossimo. Anche in questa season. Perché vi dico questo. Perché ragazzi. È stato trovato. Questo audio. Nei file di gioco. Ed è praticamente. Un audio. Relativo. Alla mancanza. Di carburante. È velocissimo. Ma sentite che roba. Ve lo faccio risentire. Praticamente ragazzi. Questo è associato. Alla possibilità. Che. L'X4. Abbia il carburante. Non si sa. Se tornerà. Nel battle royale. Classico. O se invece. Potrebbero tornare. In una modalità. A tempo. Limitato. Io spero davvero. Ragazzi. Che sia. Come ho detto. Come seconda scelta. Quindi che non rivengano. Gli aeroplani. Nel battle royale. Soprattutto con tutta. L'ambientazione. A tema. Piratesco. E davvero. Mi auguro. Li reinseriscano. Solo però. In una modalità. A tempo. Limitata. Ma andiamo avanti ragazzi. E parliamo anche. Delle moat. E il balletto ragazzi. Insomma. Sappiamo tutti ragazzi. Sono tante. Le cause legali. Legate. Ai vari balletti. Alle varie mosse. Che. Epic Games. Ha utilizzato. Soprattutto. Soprattutto. All'inizio. Quando ancora Fortnite. Non era. Così famoso. A livello globale. Forse ragazzi. Ve lo ricorderete. Ne abbiamo già parlato. Questa estate. Tra le cause. Più grosse. C'era quella. Di Roberto. Questo qua. Si chiama. Non mi ricordo il nome. Lui si chiama. Per precisione. Ma non me lo. Roberto qualcosa. Insomma. Il creatore. Negli anni 90. Nella. Nella sitcom. Il principe di Bel Air. Del balletto. Che si chiama. Carton Dance. Sapete ragazzi. Che ha aperto. Un disastro legale. Beh ragazzi. Da qualche ora. Ha ritirato tutto. Io non so. Che minacci. Gli abbiano fatto. Quelli di Epic Games. O in che modo. Abbiano potuto. Metterlo a tacere. Di certo. Non pagando. Questo ve lo posso garantire. Ma. Lui è il primo. Che ritira la denuncia. E. Con la coda tra le gambe. Se ne torna a casa. Molto probabilmente. Nei prossimi giorni. Vedremo. Anche. Vai rapper. E gli altri creatori. Delle. Delle canzoni. Dei balletti. Che probabilmente. Faranno la stessa. Identica cosa. Io lo dissi. Già allora. Non ha senso. Mettersi contro. Una. Multinazionale. Come potrebbe essere. Epic Games. Ma andiamo avanti. E parliamo anche. Di una cosa. Interessantissima. Relativa. Alla settimana numero 3. Ne avevamo già parlato. Nella schermata principale. Della season 8. Là in mezzo. Si vede. Questa sfera. Che. Ancora. Non è stata. Ufficialmente. Identificata. Alcuni dicono. Che è proprio. Un nuovo veicolo. Ne avevamo già visto. Uno simile. Per chi ha guardato. Jurassic Park. C'era appunto. Questa. Sfera. Infrangibile. Che permetteva. Alle persone. Di muoversi. Per tutta l'isola. E' molto probabile. O pensiamo. Che arrivi. Questa sfera. Questo veicolo. Nella prossima patch. Perché. Queste ragazzi. Sono le sfide. Della settimana. Numero 3. E la prima sfida. Ci dice proprio. Use the baller. In different matches. Quindi. Utilizza. De baller. Cioè. La palla. Tra virgolette. Ma è il nome. A cui viene dato. A questo oggetto. In match differenti. E. La palla. Si pensava. Fosse. Quel giocattolo. La palla. L'imbalzante. Ma. Non è. Ancora. Confermato. Quindi. Potrebbe. Esserci. Nella prossima patch. Ragazzi. L'arrivo. Di. Questo. Nuovo veicolo. Non lo sappiamo. Sono teorie. Ma io. Le condivido con voi. Per rendervi sempre partecipi. Ci sono sempre un sacco di sfide. Cercare. I chest. Nel sunni steps. Che è pronto. La city. Quella nuova. In alto a destra. O invece. A fatal fields. Dobbiamo visitare. Le location. Nei singoli match. Fare delle eliminazioni. Con mitraglia. Pistola. E fucile da cecchino. Mettere le trappole. Cercare. Anche. Questa sarà una missione. Che vi farò il video. Cercare dove si vedrà. Una lente di ingrandimento gigante. Ne parleremo. Con calma. Settimana prossima. E fare. Danni. Ai nostri. Avversari. Mentre stiamo andando. Su una zipline. E in altre situazioni. Che ovviamente. Vi spiegherò. Con calma. Beh ragazzi. Per oggi. Io ne ho dette. Veramente tante. Vi ringrazio tantissimo. Per avere guardato. Questo video. Mi raccomando. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi in tanti al canale. Noi. Ci vediamo presto. Ciao. 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 Grazie.